Giorgia Meloni non torna indietro e conferma il suo pugno duro sul reddito di cittadinanza. La maggioranza di governo sta lavorando per introdurre forti limitazioni. Primo. Se non hai almeno la terza media, niente reddito per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Lo prenderanno solo se frequenteranno dei corsi di formazione. Secondo. Se rifiuti un lavoro, perdi il reddito. L'offerta non deve più essere congrua, come recitava il testo precedente. Terzo. Tra sette mesi basta reddito. Lo perderanno gli occupabili, cioè coloro che possono lavorare e devono trovare un lavoro. E lo Stato risparmierà un miliardo di euro.